col pantaloncino unique abbiamo cercato di ridefinire quello che è l'abbigliamento per il ciclismo di performance con l'introduzione in particolare di un pantaloncino senza cuciture tridimensionale e presagomato per la posizione bicicletta la visione è stata quella di traslare tutto quello che avevamo imparato in un capo unico in un capo monoscopica di per sé una nuova dimensione ci siamo dedicati per più di due anni a questo nuovo modo di pensare un capo di abbigliamento è stata una sfida difficile ma anche stimolante dove abbiamo dovuto combattere o vincere diverse battaglie siamo partiti infatti da una struttura per poi su questa forma lavorare per dare una crescita matura abbiamo così eliminato tutto il materiale in eccesso tutto il materiale che non serve tutte le pieghe questo pantalone questo pezzo unico ha diverse aree ha diverse zone che sono costruite con differenti tipologie di filati in base alla funzione che devono avere all'area che devono ricoprire se per esigenza di dare un maggior supporto muscolare piuttosto che una maggior compressione oppure una migliore traspirabilità alla fine tutte queste caratteristiche portano al nuovo livello di comfort e diciamo la caratteristica principale di questo pantaloncino unique ha una vera sensazione di seconda pelle che noi chiamiamo po d'ange ha un vero feeling unique